un'immagine offerta dalla vita si provoca in realtà in quell'istante sensazioni multiple e differenti la vista ad esempio della copertina di un libro già letto ha tessuto nei caratteri del suo titolo i raggi di luna di una lontana notte d'estate il sapore del caffè latta e mattutino ci infonde quella vaga speranza di un bel tempo che così spesso in passato quando lo bevevamo in una tazza di porcellana bianca cremosa increspata che arriva latta e pietrificato quando la giornata era ancora intatta e piena ci sorrise nella chiara incertezza dell'alba un'ora è soltanto un'ora è un vaso colmo di profumi di suoni di intenzioni e di climi quel che chiamiamo realtà ha un certo rapporto tra quelle sensazioni e quei ricordi che ci circondano simultaneamente rapporto che sopprime una semplice visione cinematografica la quale perciò si allontana tanto più dal vero quanto più pretende di limitarsi ad esso rapporto unico che lo scrittore deve ritrovare onde incatenarne per sempre nella sua frase i due termini distinti è possibile far susseguire indefinitamente in una descrizione gli oggetti che figuravano nel luogo descritto ma la verità comincerà solo quando lo scrittore avrà preso due oggetti diversi ne avrà formulato il rapporto analogo nel mondo dell'arte a quello che è il rapporto unico della legge casuale nel mondo della scienza e li avrà cinti con i necessari anelli di un bello stile ovvero come nella vita allorché raffrontando una qualità comune a due sensazioni ne avrà sprigionato l'essenza propria ad entrambe riunendo l'una all'altra per sottrarle alle conseguenze del tempo in una metafora non era stata proprio la natura a guidarmi sotto questo aspetto sulle tracce dell'arte non era essa stessa un principio d'arte lei che mi aveva permesso di conoscere la bellezza di una cosa spesso solo molto tempo dopo e riflessa in un'altra un pomeriggio a combré nel suono delle sue campane i mattini di donsier nei singhiozzi del nostro calorifero ad acqua il rapporto può essere di scarso interesse di oggetti mediocri cattivo lo stile ma finché non c'è stato quello non c'è nulla non c'era di più se la realtà fosse stata questa specie di relitto dell'esperienza pressa poco identico per tutti da che quando diciamo un brutto tempo la guerra un posteggio un ristorante illuminato un giardino fiorito tutti sanno ciò che vogliamo dire se la realtà fosse stata questa probabilmente sarebbe sufficiente una sorta di pellicola e lo stile la letteratura se deviassero da questi semplici dati sarebbero capolavori artificiali ma era proprio questa la realtà se tentavo di rendermi conto di ciò che accade realmente nell'istante in cui una cosa ci produce una certa impressione sia come quel giorno in cui passando sul ponte della vivon l'ombra di una nuvola sull'acqua mi aveva fatto gridare caspita saltando di gioia sia che ascoltando una frase di bergotte tutto ciò che colsi della mia impressione fosse qualcosa che non le si attagliava particolarmente è meraviglioso sia che irritato dalla cattiva condotta di qualcuno bloc pronunciasse tali parole niente affatto appropriati a un incidente tanto comune che si agisca così lo trovo davvero fantastico sia quando lusingato di essere ben accolto da germant e d'altronde un po brillo a causa dei loro vini non potei fare a meno di dire sottovoce tra me e me congedandomi sono pur sempre persone squisite con cui sarebbe dolce passare la vita mi accorgevo che quel libro essenziale il solo vero libro uno scrittore non deve nel senso comune del termine inventarlo dal momento che esiste già in ciascuno di noi bensì tradurlo il dovere e il compito di uno scrittore sono quelli di un traduttore ora se quando si tratta dell'impreciso linguaggio dell'amor proprio ad esempio il raddrizzamento dell'obliquo discorso interiore che si allontana sempre più dall'impressione primitiva e centrale fino a confondersi con la retta che si sarebbe dovuta di partire dall'impressione se tale raddrizzamento è qualcosa di disagevole contro cui si impunta la nostra pigrizia vi sono altri casi quando si tratti dell'amore per esempio in cui quello stesso raddrizzamento diventa doloroso tutte le nostre indifferenze tutta la nostra indignazione contro le sue menzogne così naturali così simili a quelle che noi stessi commettiamo in una parola tutto ciò che non abbiamo smesso ogni qualvolta ci sentivamo infelici o traditi di dire non soltanto all'essere amato ma nell'attesa di vederlo a noi stessi infinite volte dall'ora ad alta voce nel silenzio della nostra stanza turbato da qualche no un tale comportamento è proprio intollerabile e ho voluto riceverti un'ultima volta e non negherò che la cosa mi la trista ricondurre tutto questo alla realtà patita da cui si è a tal punto allontanato significa abolire ciò a cui teniamo di più ciò che ha dato luogo a tu per tu col nostro animo attraverso febbrili progetti di lettere e di approcci al nostro colloquio appassionato con noi stessi anche nei godimenti artistici che tuttavia si ricercano in vista dell'impressione che danno ci adattiamo il più rapidamente possibile a lasciare in disparte in quanto inesprimibile proprio quella medesima impressione e ci abbarbichiamo a ciò che ci permette di provarne il piacere senza conoscerlo fino in fondo e di credere di comunicarlo ad altri cultori con i quali la conversazione sarà possibile perché parleremo loro di qualcosa che è la stessa per essi e per noi essendo stata soppressa la radice personale della nostra impressione persino nei momenti in cui ci sentiamo gli spettatori più disinteressati della natura della società dell'amore dell'arte stessa se che ogni impressione è duplice per metà inguainata nell'oggetto prolungata in noi stessi per l'altra metà che soltanto noi potremmo conoscere ci prodighiamo a trascurare quest'ultima cioè l'unica cui dovremmo appigliarci e teniamo conto solo dell'altra metà che non potendo essere approfondita in quanto esteriore non ci causerà alcuna fatica quel piccolo solco che la vista di un biancospino ad una chiesa scavato in noi troviamo troppo difficile tentare di percepirlo ma risuoniamo la sinfonia torniamo a vedere la chiesa finché in quella fuga lontano dalla nostra stessa vita che non abbiamo il coraggio di guardare e che si chiama erudizione non le conosceremo altrettanto bene allo stesso modo del più esperto conoscitore di musica o di archeologia e così in quanti si fermano là e non sanno trarre alcunché dalla loro impressione invecchiano inutili e insoddisfatti come tanti scapoli dell'arte soffrono dei medesimi dolori delle vergini e dei poltroni dolori che solo la fecondità e il lavoro potrebbe guarire si esaltano per le opere d'arte più dei veri artisti poiché la loro esaltazione non essendo per loro il risultato di un duro travaglio d'approfondimento si diffonde riscalda le loro conversazioni in porpora i loro volti credono di compiere un atto urlando a cagola bravo bravo dopo l'esecuzione di un'opera che amano ma semili manifestazioni non li costringono a chiarire la natura del loro amore essi non la conoscono nel frattempo quell'amore inutilizzato rifluisce anche sui loro discorsi più pacati li induce a gesticolare a fare smorfie cenni col capo quando parlano d'arte sono stato a un concerto vi confesserò che la cosa non mi entusiasmava inizia il quartetto perbacco è tutta un'altra cosa in quel momento il volto dell'appassionato esprime un'inquietudine ansiosa come se pensasse ma vedo scintille c'è odore di bruciaticcio è un incendio fulmini e sette quel che sento ora è esasperante scritto male ma è sbalorditivo un'opera non da tutti questo sguardo è preceduto da un'intonazione altrettanto ansiosa da scrollamenti di testa da nuove gesticolazioni insomma tutto il ridicolo dei monconi dali del papero che non ha risolto il problema del volo e tuttavia è trabagliato dal desiderio di planare di concerto in concerto spende la sua vita questo sterile intenditore inacidito inappagato quando incanutisce senza una vecchiaia feconda in un certo senso lo scapolo dell'arte ma queste persone detestabilissime che puzzano di merito e non hanno ricevuto la loro parte di soddisfazione sono commoventi perché costituiscono il primo informe tentativo del bisogno di passare dall'oggetto variabile del piacere intellettuale al suo organo eppure per quanto ridicoli costoro non vanno disprezzati del tutto sono i primi sforzi della natura che vuol creare l'artista altrettanto informi altrettanto poco vitali dei primi animali che precedettero le specie attuali e che non erano strutturate per durare questi cultori velleitari e sterili devono commuoverci come i primi aereoplani che non riuscirono a sollevarsi dal suolo ma nei quali era già non ancora il mezzo segreto che doveva essere scoperto ma il desiderio del volo e vecchio mio aggiunge l'intenditore prendendoci sotto braccio è l'ottava volta che lo ascolto e vi giuro che non sarà l'ultima difatti poiché non assimilano quanto viene l'arte di veramente nutriente ad ogni piaccio spinto hanno bisogno di diletti artistici in preda a una bulimia che non li sazia mai e quindi vanno ad applaudire per parecchio tempo di seguito la stessa opera credendo per giunta che la loro presenza ottemperi a un dovere a un obbligo sociale come per altri è partecipare a una seduta di consiglio d'amministrazione a un funerale appaiono poi opere diverse magari opposte sia in letteratura in pittura o in musica infatti la facoltà di lanciare idee sistemi e soprattutto di assimilarli è sempre stata assai più frequente persino in chi produce del buon gusto autentico ma ha assunto un'estensione più moltiplicata e con essi le vocazioni fittizie di scrittori e artisti così la parte migliore della gioventù la più intelligente la più disinteressata in letteratura amava ormai soltanto le opere di alto intento morale o sociologico magari religioso riteneva fosse quello l'indice del valore di un'opera rinnovando così l'errore dei david dei chenevar dei brunetier eccetera a bergotte le cui frasi più eleganti avevano richiesto in realtà un ben più profondo ripiegamento su se stesso preferivano scrittori che sembravano più profondi soltanto perché scrivevano meno bene la sua scrittura complicata era fatta apposta per la gente del bel mondo dicevano certi democratici rendendo così alla gente del bel mondo un onore immeritato ma non appena l'intelligenza raziocinante vuol mettersi a giudicare opere d'arte non c'è più nulla di fisso di sicuro si può dimostrare tutto ciò che si vuole mentre la realtà del talento è un bene un acquisto universale in cui bisogna innanzitutto constatare la presenza dietro le mode apparenti del pensiero e dello stile è su queste ultime che la critica indugia per classificare gli autori consacra profeta per il tono perentorio per l'ostentato disprezzo verso la scuola che l'ha preceduto uno scrittore che non porta nessun messaggio nuovo questa aberrazione della critica è talmente costante che uno scrittore dovrebbe quasi preferire di essere giudicato dal grande pubblico se quest'ultimo fosse almeno capace di rendersi conto di ciò che un artista ha tentato in un ordine di ricerche che gli ha sconosciuto infatti ci sono più analogie tra la vita istintiva del pubblico e il talento di un grande scrittore il quale non è che un istinto religiosamente ascoltato nel cuore d'un silenzio imposto a tutto il resto un istinto perfezionato e compreso che non con il superficiale vaniloquio e volubili criteri dei giudizi accreditati la loro logomachia si rinnova ogni dieci anni giacché il caleidoscopio non è composto solo dai gruppi mondani ma anche dalle idee sociali politiche religiose che assumono una momentanea ampiezza grazie alla loro rifrazione su vaste masse ma ciò nonostante restano limitate alla vita effimera delle idee le cui novità è riuscita a sedurre solo spiriti poco esigenti in fatto di prove si erano così succeduti i partiti alle scuole abbindolando sempre le stesse menti uomini di relativa intelligenza sempre votati alle infatuazioni da cui si astengono intelletti più scrupolosi e più esigenti in fatto di prove purtroppo proprio perché i primi sono soltanto mezzi insegni hanno bisogno di completarsi nell'azione e così agiscono più degli ingegni superiori attirano le folle e creano attorno a sé non solo fama immeritata e disprezzi ingiustificati ma anche guerre civili e internazionali da cui un po' di autocritica jansenista dovrebbe preservarli e quanto al godimento che ha una mente in perfetto equilibrio ha un cuore veramente vivo procura il bel pensiero di un maestro senza dubbio del tutto sano ma per quanto pregevoli siano gli uomini che lo provano realmente quanti saranno in vent'anni esso comunque li riduce a non essere che la piena coscienza di un altro se un uomo ha fatto di tutto per farsi amare da una donna che avrebbe potuto solo renderlo infelice ma non è neanche riuscito malgrado i suoi sforzi raddoppiati per anni e anni a ottenere un appuntamento da quella donna anziché cercare di esprimere le sue sofferenze il pericolo cui è scampato rilegge continuamente chiosandolo con un milione di parole e coi ricordi più commoventi della propria vita questo pensiero di labrouillé spesso gli uomini vogliono amare e non saprebbero come fare cercano allora la sconfitta senza poterla incontrare e se posso esprimermi così sono costretti a restare liberi sia questo o un altro il senso che il pensiero aveva per chi lo scrisse affinché lo avesse e sarebbe più bello bisognerebbe sostituire amare con essere amati è certo che dentro di sé quel sensibile letterato lo vivifica lo colma di significato fino a farlo scoppiare non può ripeterlo se non stralipando di gioia tanto lo trova vero e bello ma nonostante tutto non vi ha aggiunto nulla e resta soltanto il pensiero di labrouillé come potrebbe una lettura di resoconti avere un qualche valore dal momento che è sotto piccolezze come quelle che essa nota che è contenuta la realtà la grandiosità del lontano rumore di un aeroplano nello sagoma del campanile di saint hilaire il passato nel sapore di una madeleine eccetera e che non hanno in sé significato se non lo si estrae da esse a poco a poco conservata dalla memoria è la catena di tutte le espressioni imprecise in cui nulla resta di ciò che abbiamo realmente provato a costituire per noi il nostro pensiero la nostra vita la realtà e non farebbe che riprodurre una simile menzogna un'arte cosiddetta vissuta semplice come la vita senza bellezza doppione talmente noioso e inutile di ciò che i nostri occhi vedono e la nostra intelligenza constata da chiedersi dove chi vi si dedica trovi la scintilla gioiosa e motrice capace di spronarlo e di non farlo progredire nella sua impresa al contrario la grandezza dell'arte autentica quella che il signor di norpo avrebbe chiamato un gioco da dilettante stava tutta nel ritrovare nel cogliere nuovamente nel farci conoscere questa realtà da cui viviamo lontani da cui sempre più ci discostiamo via via che acquista spessore e impermeabilità la conoscenza convenzionale che le sostituiamo questa realtà che rischieremmo di morire senza aver conosciuto e che è semplicemente la nostra vita la vera vita la vita finalmente messa a nudo e chiarita di conseguenza la sola vita pianamente vissuta è la letteratura vita che in un certo senso dimora in ogni istante in tutti gli uomini non meno che nell'artista ma non la vedono perché non cercano di far luce su di essa e così il loro passato è saturo di innumerevoli negative che restano inutilizzate perché l'intelletto non le ha sviluppate la nostra vita e così la vita degli altri c'è che lo stile per lo scrittore come il colore per il pittore è una questione non di tecnica ma di visione è la rivelazione che sarebbe impossibile con mezzi diretti e coscienti della differenza qualitativa con cui il mondo ci appare differenza che se non ci fosse l'arte resterebbe l'eterno segreto di ciascuno di noi soltanto grazie all'arte possiamo uscire da noi stessi sapere ciò che un altro vede di questo universo che non coincide con il nostro e i cui paesaggi sarebbero rimasti per noi sconosciuti quanto quelli che potrebbero esserci sulla luna grazie all'arte anziché vedere un solo mondo il nostro lo vediamo moltiplicarsi e quanti più sono gli artisti originali tanti più mondi abbiamo a disposizione diversi gli uni dagli altri più di quelli che girano nell'infinito e che molti secoli dopo che si è estinto il focolare da cui emanava si chiamassero Rembrandt o Vermeer ci inviano ancora il loro caratteristico raggio di luce questo lavoro dell'artista dedicato a scorgere sotto la materia sotto l'esperienza sotto le parole qualcosa di diverso è precisamente il lavoro opposto a quello che istante dopo istante quando viviamo sviati da noi stessi l'orgoglio la passione l'intelligenza e anche l'abitudine compiono in noi allorché accumulano sopra le nostre vere impressioni per nascondercele interamente le nomenclature gli scopi pratici che chiamiamo falsamente vita insomma quest'arte così complicata è davvero la sola arte viva essa sola esprime per gli altri e indica a noi stessi la nostra vita quella vita che non può essere osservata e di cui le parvenze che osserviamo hanno bisogno di essere tradotte e spesso lette a rovescio e faticosamente decifrate il lavoro compiuto in noi dall'amor proprio dalla passione dallo spirito di imitazione dall'intelligenza astratta dalle abitudini questo lavoro l'arte lo dissiperà e ci farà intraprendere un cammino a ritroso ci farà tornare alle profondità dove ciò che è realmente esistito giace a noi ignoto